Ciao da Avsim, vince 3-1 l'Inter sul campo del Napoli e quindi diciamo che rispetta il pronostico perché era prevedibile una vittoria dell'Inter una vittoria abbastanza larga, forse pure troppo se consideriamo i tanti tentativi di rimettersi in carreggiata del Napoli fino alla fine praticamente nel secondo tempo ma d'altra parte anche una partita abbastanza combattuta con tanti cambi di fronte e appunto con tante occasioni da gol insomma il Napoli non ha forse demeritato così tanto da perdere 3-1 se consideriamo la fase d'attacco ma se consideriamo la difesa un po' rattoppata e ballerina dei partenopei il risultato ci sta tutto qualche errore difensivo l'ha fatto anche l'Inter ma non così grave pensiamo alla papera di Meret che insomma per me è un grande portiere va detto che il tiro di Lukaku andava a 110-111 km orari hanno detto e quindi insomma non era assolutamente facile da parare però l'intervento in sé lascia pensare che potesse fare qualcosa di meglio e lì secondo me è stata una sliding door importante perché diciamo che poi subito dopo poco dopo pochi minuti dopo il Napoli ha accorciato le distanze con merito con una bella azione perché il Napoli ha meritato di fare un gol forse avrebbe meritato anche di fare un secondo gol diciamo che 3-2 forse sarebbe stato il risultato più corretto ma in effetti anche il primo gol dell'Inter nasce anche da un errore del Napoli da un errore in fase d'attacco da un errore in occupazione offensiva concedendo una ripartenza micidiale ad un Lukaku che è in forma strepitosa poi è un po' calato nel finale ma ci sta perché ha mangiato campo perché ha corso veramente in maniera poderosa sapendo anche abbinare la tecnica ma soprattutto il gol del 3-1 è un autentico regalo di Manolas perché lì se intervieni in quella maniera non fai che concedere un assist a Lautaro Martinez che d'altra parte insomma non chiede altro perché è un giocatore forte, fortissimo anche lui non è uno che fa gol di rapina ma sa fare anche quello Lautaro diciamo che però non è stato tanto l'adattamento di Di Lorenzo in un ruolo non suo non è stata tanto l'assenza di Coulibaly secondo me a pesare per quanto riguarda la fase difensiva del Napoli secondo me Gattuso deve registrare qualcosa a livello tattico ma alle volte l'intelligenza gioverebbe nel senso quali sono le armi dell'Inter? ecco parliamo un attimo di questo le armi straordinarie dell'Inter cioè al di là di quello che può essere la dotazione di una buona squadra di un'ottima squadra quale è l'Inter sono a mio avviso la velocità della ripartenza la precisione nelle ripartenze e in particolare la velocità in campo aperto e la prestanza fisica di Lukaku tolto questo l'Inter è una squadra buona, ottima ma in maniera tutto sommato normale cioè non vedo altre grandi armi offensive di questa squadra soprattutto la precisione nel passare il pallone tra i compagni per trasformare l'azione da difensiva in offensiva ebbene se queste sono le caratteristiche di rilievo una qualsiasi squadra che deve affrontare l'Inter deve cercare di fare una cosa non lasciare la linea di difesa scoperta ed è quello che il Napoli ha fatto sistematicamente cioè è mancato il centrocampo del Napoli in questa partita ma è mancato non tanto come prestazione individuale come condizione fisica, come applicazione tecnica è stato proprio un copione tattico sbagliato impostato male da Gattuso troppo larghi, troppi spazi, troppo lenti sia nel senso della velocità sia nel senso dell'intensità cioè poca densità di reparto e poco sostegno alla linea di difesa e l'Inter fa questo, lo sappiamo gioca di rimessa, gioca principalmente in contropiede gioca principalmente in ripartenza per cui se lasci la linea di difesa scoperta una linea di difesa non schierata con tutti i titolari e tutti gli effettivi una linea di difesa intimorita da Lukaku e da uno dei migliori, Romelu Lukaku, di questa stagione è chiaro che la cosa non può che finire male il Napoli poi che è stato anche sfortunato in signa ha preso una traversa ma secondo me più che sfortunato è stato impreciso perché Milik ha sbagliato un'occasione Zielinski ha sbagliato un'occasione hanno sbagliato un po' tutti in effetti anche lo stesso Insigne che tra l'altro continua a sembrarmi un giocatore abbastanza inconcludente ora non so come la pensiate ma a me Insigne sembra uno di quei giocatori alla Bernardeschi che avrebbero le qualità per fare qualcosa ma poi sbagliano sempre il passaggio decisivo perché lo fanno troppo lungo troppo corto, troppo lento, troppo veloce sbagliano il tiro che può essere decisivo ecco per esempio dopo la papera di Meret ne stava facendo una Andanovic ma lì fondamentalmente eravamo nel primo tempo Insigne deve calciarla meglio e quindi anche quella è un'arma in meno diciamo nell'arsenale del Napoli di Gattuso Gattuso che forse sta facendo anche un buon lavoro per quello che si è visto oggi sì, nel senso che ripeto la partita è stata tutto sommato equilibrata l'Inter ha ceduto parecchio nel finale con il Napoli che si è fatto sotto e se fosse stato un po' più preciso e un po' meno sfortunato almeno il 3-2 ripeto lo avrebbe fatto e lo avrebbe anche meritato poi non sarebbe mai finita in pareggio io credo soprattutto per il cinismo di questa Inter che è veramente cioè rappresentato non so se più dai gol di Lukaku o dal gol di Lautaro Martinez però almeno avremmo visto un risultato un pochino meno squilibrato almeno questo è quello che penso io poi adesso l'Inter può proseguire anche così come è arrivata fin qui cioè continuando ad aggredire gli avversari con intelligenza cioè sfruttando le occasioni sfruttando gli errori sfruttando le situazioni più vantaggiose però va detto che la prossima partita non ci saranno Barella e Skriniar squalificati perché erano in diffida contro l'Atalanta potrebbe essere un ostacolo un po' più duro in generale comunque non mi è piaciuta la partita nel suo complesso sì è stata una partita divertente sì ci sono state tante occasioni però mi aspettavo una partita di livello superiore a livello livello superiore tecnicamente di entrambe le squadre insomma non mi è sembrato una partita chiaramente non era una partita di vertice però per i valori poteva anche essere poteva anche sembrare cioè che il Napoli avrebbe perso era probabile ma mi aspettavo dal Napoli una prestazione migliore però tutto sommato anche dall'Inter perché l'Inter ha fatto una prestazione di grande merito per la vittoria però secondo me si è anche un po' accontentata si è anche un po' adagiata vedendo che le difficoltà del Napoli erano quelle quindi non ha provato a fare questa grande costruzione di gioco per salire un po' di livello d'altra parte io lo dico da mesi che questa Inter comunque ha dei limiti che non intende superare è al massimo dei giri fondamentalmente da settimane qualche giocatore può ritrovare una migliore forma fisica ma non tanto non tanto più di questo in Europa infatti le cose sono andate male forse anche per questo motivo qui ma se a Conte sta bene io non sono nessuno per andare a modificare le cose resta quindi l'Inter prima in classifica insieme alla Juventus e la prossima partita quindi sarà decisiva per il titolo tra virgolette di campione d'inverno ma naturalmente quello che conta poi è arrivare in fondo grazie per la vostra attenzione ditemi come la pensate nei commenti su questo Napoli-Inter 1-3 di questo 6 gennaio 2020 like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie per la vostra attenzione